Un abbraccio fraterno per dissipare le incomprensioni del passato. Cuba ha fatto da cornice una giornata storica senza eguali l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill. Il Pontefice, in viaggio verso il Messico per il suo dodicesimo pellegrinaggio internazionale, ha fatto tappa alla Habana per avere un colloquio personale con il primate della Chiesa Ortodossa e firmare poi una dichiarazione comune. Nel testo, dopo aver deplorato la perdita dell'unità a conseguenza della debolezza umana e del peccato, si rimarca la comune volontà di procedere come fratelli rispondendo con un'unica voce alle sfide del mondo contemporaneo, non solo a parole ma con gesti concreti. Da questa isola, simbolo delle speranze del nuovo mondo, Papa Francesco e Kirill declinano in 30 punti le preoccupazioni per una società smarrita, segnata anzitutto dagli orrori della guerra che tuonano tra l'altro in Ucraina, in Siria e in Iraq, dove si fa sempre più esigua la presenza dei cristiani. Invitando la comunità internazionale a rispondere in modo coerente e comune alla sfida del terrorismo e a non rimanere indifferente ai milioni di migranti e di rifugiati che bussano alla porta dei paesi ricchi, i primati della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa russa mettono poi in evidenza la sfida della libertà religiosa, del rispetto della vita e della famiglia. Il futuro dell'umanità dipende anche da gesti di speranza come l'incontro odierno, dalla testimonianza concreta in tempi difficili, dalla consapevolezza di essere tutti fratelli. L'unità, ha insistito Papa Francesco subito dopo la firma, si fa camminando insieme. Grazie a tutti.